Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Il link è in descrizione. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi ha luogo nel Regno Unito e racconta di una vicenda un po' diversa dal solito. Non è certamente l'unica nel suo genere, ma non si sente spesso parlare di avvenimenti simili. Questo perché il protagonista di questa storia è un uomo, un ragazzo per l'esattezza, vittima di violenza domestica e terribili abusi. Attraverso i fatti di oggi, infatti, conosceremo Alex Skeel e la sua insospettabile aguzzina, Jordan Ward. Ma prima facciamo un breve salto indietro nel tempo. È il 17 agosto 1995 e Geraldine Skeel, visto l'avvicinarsi della sua trentesima settimana di gravidanza, si sta recando all'ospedale per un normale controllo. La donna porta in grembo due gemelli ed è solita ricarsi a regolari appuntamenti di monitoraggio. Mentre l'infermiera svolge l'ecografia di routine, le due donne scambiano cordialmente qualche parola, finché all'improvviso cala il silenzio. Geraldine intuisce subito che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Con gli occhi pieni di paura, fa giusto in tempo a scambiare uno sguardo con l'infermiera, che si alza in fretta per correre al telefono. L'infermiera dice, pronto? È urgente! Ho qui la signora Skeel, stiamo perdendo uno dei gemelli. Preparate la sala parto! Adesso! Geraldine viene preparata rapidamente per un cesareo d'urgenza e messa sotto anestesia prima che possa realizzare pienamente cosa stia succedendo. La donna è terrorizzata. Al momento del risveglio, però, la prima frase che sente riporta in Geraldine gioia e sollievo. Allora, signora, vuole vedere i suoi bambini? Entrambi i piccoli erano sopravvissuti al parto, tuttavia Alex, il gemello a rischio, pesa poco meno di un chilo e, insieme al fratello Luke, superano di poco i tre. Alex viene ricoverato in terapia intensiva, ma, fortunatamente, dopo alcune delicate operazioni, può tornare a casa. I gemelli, nonostante le preoccupazioni iniziali, crescono bene e, nel primo anno di vita, diventano addirittura modelli di abiti per bambini, per la catena di supermercati inglese ASDA. Durante l'infanzia, Alex inizia a giocare a calcio e continuerà a coltivare questa passione anche nel corso dell'adolescenza. Ogni sabato e domenica si ritrova sempre a giocare con gli amici. È un ragazzo attivo e spensierato e non ha particolari interessi al di là dello sport, né, tantomeno, è interessato alle ragazze. E questo lo racconta Alex stesso. Ma, il 3 giugno 2012, tutto cambia. Alex ha 16 anni e viene invitato da un amico ad assistere ad uno spettacolo organizzato dal college che frequenta. Tra il pubblico, seduto accanto a lui, c'è una ragazza, ha 17 anni e il suo nome è Jordan Worth. I due iniziano a parlare e Alex è molto sorpreso, non gli capita spesso di interagire con delle ragazze e questa interazione in particolare non gli dispiace affatto. Dopo questo primo incontro, Alex e Jordan iniziano la loro frequentazione, sentendosi tutti i giorni. Sembra che il calcio non sia l'unica passione di Alex a questo punto. Jordan Worth nasce nel 1996 a Stuart B, nel Bedfordshire. Cresce in una famiglia amorevole che la supporta durante l'adolescenza, nella passione per la ginnastica artistica. Jordan è una studentessa brillante e frequenta l'università dell'Artforshire, dove consegue una laurea in Belle Arti. Il suo obiettivo è quello di diventare insegnante. Come detto in precedenza, tra Alex e Jordan le cose si evolvono in fretta. Nei primi anni della loro storia la ragazza viene accolta dalla famiglia di lui e dal suo gruppo di amici. Alex sembra veramente innamorato e Jordan, ad un primo impatto, sembra una ragazza simpatica e alla mano, ambientandosi senza fatica nella compagnia. Tuttavia c'è qualcuno che sotto sotto non approva questa relazione. Geraldine, la madre di Alex, è una donna sveglia e particolarmente protettiva nei confronti del figlio. Memoria della paura provata nei primi mesi di vita del suo bambino non può fare a meno di prestare molta attenzione a chi frequenta. In effetti Jordan, nonostante l'aspetto angelico, aveva avuto alcuni comportamenti molto strani e allarmanti. Nel 2013, in occasione del diciottesimo compleanno di Jordan, la famiglia di Alex organizza un piccolo viaggio a Londra per assistere ad una rappresentazione delle musical in Raleone. La serata passa piacevolmente e una volta usciti dal teatro, il gruppo torna in hotel per la notte. Durante la notte, Alex racconta di essersi alzato per andare in bagno ed essersi reso conto che Jordan era sparita dalla loro stanza di albergo. L'intera famiglia, allarmata, la cerca per un'ora finché Alex non la ritrova nella hall dell'hotel a ridere come se niente fosse. I genitori del ragazzo rimangono decisamente straniti da questo comportamento e provano a confrontarsi con lui, che resta sulla difensiva. Qualche mese dopo arriva finalmente il diciottesimo compleanno di Alex e suo fratello Luke. L'intera famiglia è riunita per festeggiare i ragazzi e i loro traguardi. Luke era stato appena ammesso all'università e Alex al college. Hanno affittato una sala all'interno di un pub, del luogo per contenere tutti gli amici e familiari invitati. A guastare l'area di festa però ci pensa Jordan. Poco prima dell'inizio dei festeggiamenti aveva minacciato Alex di non presentarsi se fosse stata presente anche una ragazzina quindicenne, figlia della migliore amica di Geraldine Skeel, di cui lei era gelosa. Alex le aveva risposto che non sapeva se ci sarebbe stata anche lei, l'aveva però pregata di non mancare. Una volta iniziata la festa però entrambe le ragazze sono presenti. L'atmosfera è tesa, non trascorre molto tempo prima che Jordan inizi ad attaccare l'amica di famiglia. La musica si ferma tra le urla delle ragazze e, mentre queste vengono separate, Alex è in lacrime. La ragazzina coinvolta è cresciuta con i gemelli e loro la vedono come una sorella, non esiste un vero motivo per cui Jordan dovrebbe essere gelosa. Nonostante ciò la festa ormai si è fermata e tutti gli occhi sono puntati su questo litigio e su Jordan, la ragazza del festeggiato. Insomma, sembra che la giovane voglia Alex tutto per sé e non sopporte di vedere il suo fidanzato trascorrere del tempo in serenità con amici e famiglia senza che lei possa monopolizzare la sua attenzione. Tutti hanno assistito a questa scena e sembra chiaro che Alex abbia accanto una persona problematica. Gli amici gli chiedono di allontanarla dal locale ma lui non vuole sentire ragioni e continua a proteggerla. La relazione tra Alex, Skill e Jordan Ward a questo punto è in equilibrio sul filo di un rasoio. Alcune settimane dopo la festa, a seguito di un litigio, Jordan prende la scheda sim di Alex e la spezza. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Anche alla luce degli avvenimenti più recenti, Alex si sente maltrattato e manipolato e finalmente si rende conto che è il momento di farla finita e chiudere la loro relazione. La loro rottura è motivo di festeggiamento nella famiglia di Alex. Anche i suoi amici sono convinti che si sia salvato da qualcosa di molto tossico per lui. Ma la quiete dura poco. Poco tempo dopo infatti Jordan ritorna nella vita di Alex con una sorpresa. È incinta. Geraldine Skill dice al figlio che deve supportare Jordan ma che non è necessario che torni insieme a lei. Alex è d'accordo, non ha problemi a fornirle un sostegno economico, ma sa che non può più sottostare i sotterfugi che Jordan aveva messo in atto per mantenere il controllo su di lui nel corso della loro relazione. Adesso che ha aperto gli occhi non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Alex e Jordan non si sentono più per mesi. Il 19 maggio 2014 nasce il loro figlio Thomas Jay. La prima ad avere contatti con Jordan dopo la nascita è Geraldine che riceve un messaggio dalla ragazza in cui le chiede se è disposta a conoscere il suo nipotino. Geraldine Skill non se la sente di voltare le spalle al suo primo nipote. Accetta di accogliere Jordan e il piccolo Thomas un pomeriggio per un tè e non appena la donna vede il piccolo se ne innamora. Quando Alex scopre di questo incontro va su tutte le furie. Non può credere che sua madre abbia aperto di nuovo la porta alla ragazza che lei stessa voleva vedere sparire dalla vita di suo figlio. Geraldine sa cosa ha passato Alex e capisce per quale motivo lui resti diffidente ma lo prega di non toglierle la possibilità di essere una nonna. Anche il resto della famiglia decide di dare a Jordan il beneficio del dubbio. È una mamma ora, le sue priorità saranno cambiate, deve pur essere maturata insomma. Alex accetta allora di incontrare suo figlio senza la presenza di Jordan e proprio come sua madre Geraldine se ne innamora. Da quel momento in poi il rapporto con Jordan si riallaccia. La ragazza sembra effettivamente cambiata dalla maternità e nel giro di pochi mesi si ritrovano tutti a vivere sotto lo stesso tetto a casa degli Skill. Non passa troppo tempo prima che i due tornino assieme. Il primo gennaio 2015 i ragazzi annunciano su Facebook di essere di nuovo coinvolti in una relazione. Tutto sembra perfetto finché un pomeriggio durante un giro in macchina i ragazzi si imbattono nella ragazzina che Jordan aveva assalito al diciottesimo compleanno di Alex e perde la testa. Inizia infatti ad insultarla dal finestrino mentre la giovane corre svelta e spaventata verso casa. Convinci inoltre Alex ad unirsi a lei negli insulti. Siccome Geraldine e la madre di questa malcapitata sono migliori amiche, basta pochissimo perché la notizia di questo spiacevole avvenimento arrivi a casa Skill. Geraldine Skill affronta i ragazzi e dice a Jordan che è delusa e pensava che ormai fosse cresciuta abbastanza da saper contenere certi comportamenti. Jordan, offesa, inizia a fare le valigie per sé e per TJ e dà un ultimatum ad Alex. Devi scegliere o me tuo figlio o la tua famiglia. Alex è molto spaventato, ha paura che Jordan non gli permetta più di vedere suo figlio. Decide così di trasferirsi insieme a lei. Il ragazzo ha solo 19 anni quando nel maggio del 2019 lascia la casa di sua mamma senza poter in alcun modo immaginare che non l'avrebbe più vista per i due anni a seguire. Jordan e Alex e il piccolo TJ si trasferiscono quindi a casa dei genitori di lei. In men che non si dica, la situazione inizia a cambiare. Jordan accusa Alex di aver frequentato diverse ragazze mentre loro non stavano più insieme e lei era incinta. Diventa ossessiva e nonostante Alex neghi di essere uscito con questa o quell'altra ragazza, lei continua a chiedere insistentemente. Regala un nuovo telefono ad Alex e lo costringe a cambiare numero. Si libera della loro Playstation perché poteva essere un mezzo per contattare persone legate al passato di Alex, ovvero la sua famiglia e gli amici. Geraldine Skill a questo punto non sa dove sia il figlio né come contattarlo. Comincia così a fargli degli accrediti simbolici dal valore di una sterlina sul suo conto, allegando corti messaggi come ti voglio bene. L'unica risposta che riceve è ti odio, stammi lontana. Gli amici di Alex ricevono messaggi dal profilo Facebook del ragazzo in cui li informa di non volerli vedere mai più, che gli ha sempre mentito e non si è mai trovato bene con loro. Insulta addirittura le sue stesse amiche con commenti sul loro aspetto. È chiaro che non sia Alex la mente dietro a quei messaggi, ma al loro tentativo di aprire una conversazione ottengono come risultato di venire bloccati. Gli abusi e i giochi mentali di Jordan prendono una piega ancora più inquietante quando una mattina lei riferisce ad Alex che sua madre ha appena ricevuto un messaggio da Geraldine. La donna la informa che il nonno di Alex è morto. Alex era molto legato al nonno e al pensiero di non averlo potuto salutare un'ultima volta lo schiaccia. Inizia a piangere e a disperarsi. Jordan lo lascia crogiolare in questo stato per almeno due ore prima di rivelargli che era tutto finto e non era arrivato alcun messaggio dalla sua famiglia. Alex sostiene che la ragazza lo ha fatto in quanto gilosa del rapporto che lui aveva con il proprio nonno. Nel luglio 2016 i due lasciano la casa della famiglia di Jordan per trasferirsi per conto proprio in una casa a Stewart Bay, a nord di Bedford. I rapporti sembrano più distesi e Jordan rimane incinta una seconda volta, anche in questo caso la tranquillità dura poco. Alex ha un bel lavoro che gli piace e gli dà soddisfazione, ma Jordan dapprima cerca di sabotarlo accompagnandolo ogni mattina in ritardo, poi lo spinge a licenziarsi. Lei in quel periodo sta frequentando l'università e ha paura che lasciando Alex solo a casa lui possa andare a trovare la propria famiglia, così lo costringe a passare le giornate in università con lei. Gli toglie persino il portafogli per far sì che dipenda esclusivamente da lei. La zia di Alex, sorella di Geraldine, capisce attraverso Facebook che il nipote si è trasferito a Stewart Bay. Così decide di cercarlo. Prende l'auto e scandaglia per giorni i quartieri della cittadina, finché una sera non trova una casa con una statuetta di elefante appoggiata al davanzale della finestra. L'elefante era l'animale preferito di Alex. Così decide di tentare e suona la porta, ma immediatamente tutte le luci della casa si spengono. Alcuni minuti dopo, alla porta a vetri, scorge la figura di Alex prendere qualcosa dal frigo e tornare al piano di sopra. Si rende conto che evidentemente il nipote non voleva davvero avere più contatti con la famiglia e torna a casa. Chissà se le cose sarebbero andate diversamente nel caso in cui la donna avesse preso l'iniziativa di insistere o chiamare qualcuno. Quello che non immagina è che Alex vive ormai come una sorta di prigioniero in uno stato di costante paura. È talmente manipolato da Jordan da non poter chiedere aiuto. I livelli della gelosia ossessiva di Jordan ormai sono alle stelle. Durante una gita ad una fiera, Jordan costringe il fidanzato a ingerire diversi sonniferi per impedirgli di guardare altre ragazze. Alex racconta di aver passato la giornata in uno stato di confusione e non riesce a ricordare neppure come siano tornati a casa. In un'altra occasione Alex viene colpito in faccia con una spazzola per aver guardato fuori dal finestrino, ritrovandosi con un dente rotto. Quasi ogni notte Jordan aspetta che Alex si addormenti per poi colpirlo alla testa, dapprima con una bottiglia di birra, poi con un martello, infine con qualsiasi oggetto contundente possa trovare. Col passare del tempo inizia anche a utilizzare un coltello, provocandogli tagli sulle gambe. Gli abusi e le torture diventano la quotidianità della sua vita. Alex non può uscire di casa da solo, non può guidare, né gli viene concesso di spendere denaro, non può cucinare in autonomia e Jordan gli impedisce di nutrirsi adeguatamente. Finisce addirittura per dormire sul pavimento, in cima a una pila di vestiti. Una notte Alex viene persino svegliato da litri di acqua bollente versatagli sulla schiena da Jordan. Nonostante le gravi ustioni, la ragazza non gli permette di recarsi al pronto soccorso. Il 3 febbraio 2017, alle 2.30 di notte, Alex chiama il nonno per chiedere aiuto. L'intera famiglia si precipita sotto casa del ragazzo, senza sapere cosa stia succedendo. Una volta lì, tutte le luci si spengono e nessuno risponde alla porta. Viene chiamata la polizia, che entra in casa e interroga i fidanzati. Pare si sia trattato di un semplice litigio. Alex zoppica, ma nega sia colpa di Jordan. In tutto questo la famiglia aspetta fuori e non gli viene permesso di entrare a vedere Alex. Per cui tornano a casa delusi e preoccupati. A maggio 2017 nasce la secondo genita della coppia, Iris. Alex spera che l'arrivo della piccola possa portare un po' di calma in casa. Ma non è così. Jordan tira fuori una macchina della verità da 5 pound che aveva comprato, praticamente un giocattolo, e costringe Alex a fare un test. La macchinetta inizia a suonare suggerendo che Alex stia mentendo e la sua punizione è il contenuto di un bollitore, pieno di acqua incandescente, versato su un braccio. La polizia viene chiamata dai vicini a causa delle urla che provengono dalla casa. Questa volta si presenta il sergente Ed Finn, della polizia di Bedfordshire. E Jordan è andato ad aprirgli la porta. Dice, c'è stato un problema. Alex si è sentito male. Alex viene subito trasportato all'ospedale in ambulanza, dove la ferita viene ripulita dallo strato superficiale di pelle ustionata e preparato per un'operazione. Tuttavia Jordan si presenta lì e decide di portarlo a casa. Le infermiere e i medici insistono perché resti in ospedale, ha bisogno di quest'operazione. Viene anche coinvolto un consulente che chiede ad Alex se è certo che sarebbe stato al sicuro in casa sua. Alex risponde di sì. Alex in quel momento avrebbe potuto parlare e liberarsi da quella prigionia, ma decide di non farlo e confermare di aver fatto tutto da solo. Jordan non era coinvolta. Ha paura di cosa la ragazza possa fare a lui o ai suoi figli, dicendo la verità. Solo alcuni giorni dopo arriva l'ennesima chiamata alla polizia da parte dei vicini, che sentono nuovamente delle urla. Quando il sergente Ed Finn legge l'indirizzo di Alex, decide di recarsi personalmente sul posto. Dopo la visita precedente non aveva smesso di pensare al ragazzo. I due infatti hanno circa la stessa età e Ed aveva intuito che qualcosa in quella casa non tornasse. Questa volta è Alex ad aprire la porta. Ed lo porta al piano di sopra per interrogarlo, ma il 21enne continua ad insistere. Dice che si è trattato di un semplice litigio, non c'è stata alcuna aggressione. Ovviamente Ed tenta a crederci. Alex è coperto da lividi, tagli, bruciature, è confuso ed è emaciato. Non gli sembra possibile che si sia procurato tutto questo da solo. Così lo accompagna fuori casa, lo fa salire sull'auto della polizia e gli dice «Non ci muoviamo da qui finché non mi dici la verità. Tu hai bisogno d'aiuto, lei ha bisogno d'aiuto e dovete farlo per i vostri figli». Anche lì dentro, lontano da Jordan, Alex non cede. Ha paura. Sa come la ragazza potrebbe reagire quando viene contrariata e di conseguenza non vuole coinvolgere la polizia. Insiste con la sua versione dei fatti fino a che Ed Finn non spegne la sua bodycam, che stava registrando tutto fino a quel momento. Ora siamo soli io e te in questa macchina. Dimmi la verità. Alex crolla all'istante e gli dice tutto. Lo prega di mettere a verbale solo le chiamate dei vicini e cosa loro hanno sentito succedere in casa. Non vuole che si sappia che è stato lui a parlare. Jordan viene portata in centrale per un interrogatorio, mentre Alex viene trasportato in ospedale. Lì, i medici dichiarano che il ragazzo sarebbe morto nel giro di dieci giorni se non fosse stato salvato da quella situazione. Quella sera, Alex consuma il primo pasto caldo dopo settimane. Sentendosi finalmente al sicuro, decide di parlare con la polizia. Racconta di tutti gli abusi e le torture subite negli ultimi due anni. Durante gli interrogatori Jordan ammette tranquillamente di averlo graffiato qualche volta con un coltello che durante i viaggi in macchina qualche volta lo colpiva con una spazzola per attirare la sua attenzione che effettivamente aveva rovesciato su di lui dell'acqua bollente. Descrive le sue azioni con estrema tranquillità, come se non si rendesse conto della gravità dei fatti. Il 28 settembre 2017 Jordan viene accusata di 17 capi di imputazione tra cui lesioni aggravate e comportamento coercitivo. Alex può tornare finalmente dalla sua famiglia. La madre rimane sconvolta dallo stato in cui versa il figlio. Riesce a malapena a reggersi in piedi. Adesso l'unica preoccupazione del ragazzo è proteggere i suoi due bambini che fortunatamente si ricongiungono col padre e i nonni nel giro di una settimana. Geraldine incontra così per la prima volta la sua nipotina di poche settimane. Nemmeno sapeva fosse nata. Il 13 aprile 2018 Jordan viene condannata a 7 anni e mezzo di detenzione per lesioni aggravate e comportamento coercitivo. La legge inglese riconosce il reato di coercizione dal 2015 ma Jordan è la prima donna ad esserne imputata. Questo crimine coinvolge una gamma di comportamenti che infliggono violenza psicologica anche non in presenza di violenza fisica diretta. Un esempio è proprio impedire a qualcuno di frequentare gli amici o controllare uno o più aspetti della vita di una persona. Il sergente Ed Finn ha dichiarato che questo è stato il caso di violenza domestica più impressionante della sua carriera. Ora Alex, ripresosi fisicamente, fa l'allenatore di calcio e vive con la sua famiglia e i suoi figli. La sua storia è stata riportata da diversi giornali e raccontata nel documentario Abuse by My Girlfriend in cui Alex, la sua famiglia e i suoi amici raccontano in prima persona questa orribile vicenda. L'uomo è anche diventato ambasciatore dell'organizzazione benefica contro la violenza domestica The Mankind Initiative e aiuta a far luce su un problema a volte nascosto di cui anche gli uomini possono essere vittime silenziose. Ai microfoni della BBC dichiara Il giorno in cui Jordan è andata in prigione mi sono sentito davvero libero. Ricordo solo di aver detto posso davvero guardarmi alle spalle per la prima volta in cinque anni senza preoccuparmi. Detto questo ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo caso possa essere stato per voi interessante io faccio molta fatica a trovare casi di questo genere e quando sono venuta a conoscenza di questo caso ho detto ok lo voglio assolutamente portare sul canale perché sono davvero davvero rari io sono consapevole che esistano queste storie lo so, lo so però purtroppo spesso e volentieri gli uomini non denunciano o comunque la loro storia in qualche modo non riesce a essere in vista onestamente ho fatto anche qualche caso sulle aggressioni con l'acido e anche lì non ci sono tante fonti davvero non ci sono così tante fonti come invece al contrario ci sono tantissime fonti per casi in cui uomini uccidono donne e questa la trovo una cosa triste e ingiusta perché come già vi ho detto tante volte la violenza non ha genere la violenza non ha sesso e quindi secondo me bisognerebbe iniziare anche a raccontare queste storie perché è importante è importante parlare anche di questo altro lato della medaglia voi che cosa ne pensate? come al solito ci bicchiamo nei commenti qua sotto io vi leggo sempre e in questo caso sono tantissimo curiosa di leggere le vostre opinioni detto questo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti mi raccomando fate i bravi